Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Curiose davvero le recentissime parole di Guido Crosetto, uomo di punta della destra neoliberale bluet del governo di Giorgia Meloni, un uomo che chiaramente fa sua l'ideologia neoliberale in ogni sua sfumatura e in questa ideologia rientra pieno anche l'imperialismo atlantista di cui il governo di Giorgia Meloni è campione direi insuperato e forse anche insuperabile. Mi spingerei a dire che quanto ad atlantismo imperialistico la destra bluet neoliberale di Giorgia Meloni riesce anche a superare se mai è possibile la sinistra fucsia neoliberale che è atlantista fino al midollo ma pare che Giorgia Meloni sia riuscita nell'ardua impresa di essere ancor più atlantista delle sinistre fucsia. Cosa ha detto Guido Crosetto in una davvero poco felice uscita? Un'uscita che mi permetto di dire è un asilum ignoranzia come usava dire un tempo, ha detto che in fondo le bombe a grappolo i russi le usano già da tempo. Cos'è successo? È successo che Washington ha approvato con grande indignazione di molti paesi della Nato, intendiamoci, l'invio di bombe a grappolo a Kiev a sostegno dell'Ucraina, del Guido Zelensky, attore Nato con la N maiuscola, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood. Sono bombe molto dannose, nemmeno a dirlo, non che le bombe normali non lo siano ovviamente, le bombe intelligenti è una pura utopia, anzi è una formula neo-rueliana, le bombe non sono mai intelligenti e non sono mai a fin di bene, le bombe sono in quanto tali da condannare senza sé e senza ma, quelle a grappolo ancora di più perché cagionano ancora più danni di quelle normali. E cosa ha detto Guido Crosetto? Anziché condannare spietatamente questa pratica se ne è uscito, così leggo il suo ADN Cronos dicendo che i russi le usano già da tempo. Ora, io non ho gli elementi per dire se i russi le usino da tempo oppure no, ammettiamo che le usino, ammesso e non concesso che i russi abbiano utilizzato le bombe a grappolo, non mi pare sia un grande argomento dire che quindi anche gli americani debbono usarle, perché sarebbe un po' come dire, dato che gli americani hanno usato, ed è vero, due bombe atomiche, allora tanto vale che le utilizzino anche gli altri paesi e gli altri stati che sono in grado di dotarsene. Voi capite che è un argomento claudicante per usare una formula ancora eufemistica e perifrastica, in realtà si tratta di un sillogismo del tutto infondato perché di fatto sdogana la violenza nelle sue forme più totali, la violenza bellica si intende, quindi mi permetto di suggerire a Guido Crosetto di rivedere questa sua posizione e di condannare fermamente la guerra in quanto tale che il suo governo purtroppo appoggia, chiamandola naturalmente protezione dell'Ucraina e quant'altro, ma sappiamo, l'abbiamo detto più volte, che questa guerra è la guerra che Washington sta conducendo contro la Russia utilizzando l'Ucraina del Guido Zelensky come bastone contro la Russia per riprendere la fortunata formula del compianto Giulietto Chiesa.